ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro are benvenuti questa nuova recensione con un pezzo che in realtà mi ero dimenticato non proprio dimenticato ma era finito nella lista infinita di cose da recensire finalmente oggi ho trovato il tempo di vederlo insieme perché è veramente un pezzo che merita stiamo parlando di kurosaki ichigo direttamente da bleach prodotto dalla desin model questa qui è la confezione ragazzi ed è un già un piccolo capolavoro a sé stante questa è la parte frontale come vedete la tunica di ichigo questo qui è il lato questo qui è l'altro lato naturalmente in arancio colore dei capelli questa è la parte superiore questa è la parte inferiore questo qui è il retro appunto con il logo di bleach e poi ragazzi la confezione magnetica vedete si apre in questo modo pazzesca questa cosa e rivela all'interno appunto la nostra figure spettacolo davvero questa è una confezione che merita assolutamente un 10 come voto perché è una delle più belle che io abbia mai visto piccola elegante e geniale comunque ragazzi se fosse interessato dell'acquisto di questa tante altre figure le potete trovare nel mio sito ara shop che c'è nel link qui sotto nella descrizione del video oppure basta digitare su google ara shop ma comunque andiamo a vedere la nostra figure fuori dalla confezione ed eccolo qui con tutti i suoi accessori cominciamo a vedere la basetta che è questa qui veramente figa ragazzi con questo parquet che non è un adesivo ma è realmente scolpito e tra l'altro anche dipinto vedete con queste sporcature e abbiamo addirittura due aste una più lunga e una un po più corta quindi figata davvero poi abbiamo le varie mani intercambiabili che sono queste due qui vedete con questa posa molto particolare potrebbe anche essere per impugnare la spada però per impugnare propriamente appunto la spada ci sono queste qui vedete con la presa più stretta comunque sono ben realizzate e poi abbiamo queste qui invece a palmo aperto poi abbiamo l'immancabile maschera eccola qui ragazzi comunque ben fatta in questa plastica bianca con questo painting rosso questo potevano farlo forse un pochino più carico secondo me dovevano farlo un po più carico fighe le sporcature comunque sui denti della maschera e poi abbiamo tre visi intercambiabili cioè questo qui a denti stretti come vedete il painting e la pulizia diciamo anche lo scalp è veramente eccezionale ragazzi siamo ad un che è il viso sorridente eccolo qui molto ben fatto anche questo e poi abbiamo questo invece un viso serio eccolo qui con un leggerissimo sorriso in realtà per il resto immancabile la sua spada questa mannaia praticamente gigante questo coltello da macellaio gigante bellissima fatta veramente bene con questo gun metal su questa parte e poi l'argento invece sulla parte frontale della lama e qui abbiamo vedete il manico con queste fasce dipinte e la fascia alla fine che è realmente in tessuto fighissima veramente spettacolare tra l'altro alta quasi quanto lui praticamente alta quanto lui ora andiamo a vedere il nostro icico questo è il viso di base di cui è dotato bellissimo fatto davvero davvero bene perfetto in ogni dettaglio viso serio e vediamo i capelli che sono splendidi tra l'altro con queste sfumature di colore non sono semplicemente in un arancio piatto ma appunto hanno dato le sfumature lo scalto è praticamente perfetto la particolarità di queste figure design model è che come vedete hanno i vestiti in tessuto ad alcuni non piacciono a me piacciono tantissimo quindi è questione comunque di gusti secondo me poi diciamo in particolare con questa tunica molto larga questa specie di kimono l'abito in tessuto si sposa veramente bene perché farla in plastica una tunica nel genere secondo me non rende molto soprattutto con le articolazioni qui abbiamo vedete la fascia che porta per appunto rinfoderare la spada e poi abbiamo vedete la cintura con questo fiocco al di sotto chiaramente si possono intravedere tranquillamente le braccia vedete questo materiale molto particolare di cui è fatto questo tessuto e poi abbiamo qui diciamo i pantaloni slash gonna che in realtà sono due pantaloni che sembrano comunque una gonna invece quando sono chiusi insieme bellissime anche questi molto benializzati vedete con tutte queste pieghette che chiaramente rimangono è fatto apposta e qui abbiamo vedete questi sandali credo abbiano un nome specifico ma io sinceramente adesso non me lo sto ricordando però fatti anche questi veramente bene vedete ci sono anche le calze bianche che continuano al di sotto del pantalone veramente veramente fighi ragazzi ora andiamo a vedere le articolazioni abbiamo la testa che può guardare verso l'alto come vedete questo è il modo di sostituire la testa ovviamente c'ha un parrucchino si toglie questa parte si sostituisce il viso quindi veramente molto semplice tornando all'articolazione la testa può guardare verso l'alto fino qui può guardare verso il basso fino qui c'è anche articolazione alla base del collo può muoversi lateralmente in questo modo può ruotare lateralmente in questo modo qui c'è apertura del braccio a più di 90 gradi c'è butterfly joint in avanti indietro e in su e in giù rotazione naturalmente in avanti e indietro chiaramente la tunica è molto larga quindi non limita nulla rotazione al bicipite articolazione doppia qui al gomito davvero ottima piegamento al polso e rotazione al polso a mezzo busto abbiamo il piegamento in avanti e indietro nonché piegamento laterale rotazione laterale in questo modo anche qui chiaramente alla vita fighissimo anche questo dettaglio della parte separata vedete del pantalone rispetto alla parte superiore del kimono poi abbiamo il piegamento della gamba in avanti senza alcun tipo di problema piegamento anche all'indietro devo dire buono abbiamo l'apertura laterale quasi massima rotazione la parte superiore abbiamo il piegamento doppio al ginocchio quindi veramente una figure molto molto ben posabile abbiamo anche il piegamento e piedi su piegamento del piede in giù rotazione in questo modo anche della caviglia laterale e rotazione naturalmente anche in questo modo qui e ora ragazzi andiamo misurare l'altezza della nostra figure siamo praticamente sui 17 centimetri quasi e mezzo quindi quasi 7 pollici ed eccola qui a confronto con il super seian blu e sage figuras con il mitico monnezza spider man marvel select per farvi capire meglio la dimensione della figure o ed eccolo qui in tutta la la sua fierezza sulla basetta rotante ragazzi questa è una figure veramente spettacolare la desin model sta facendo davvero un lavorone con queste uscite abbiamo visto quelle di slendak che sono praticamente perfette dobbiamo ancora vedere quella di tsubasa da holly e benji di holly che non ho ancora trovato il tempo di recensire quindi ne vedremo delle belle da questa ditta perché sta annunciando e producendo sempre più figure e sono una meglio dell'altra fighissimo davvero questo icico diamo i voti comunque accessori qua anche siamo al top 9 c'è anche la basetta strafiga per quanto riguarda le articolazioni anche qui nulla da dire un altro 9 pieno perché praticamente può assumere qualsiasi movimento e per quanto riguarda l'estetica ragazzi qui chiaramente sta un po al gusto personale soggettivo perché ripeto non a tutti piace l'abito in tessuto questo lo so bene però a me piace tanto quindi anche qui do un bel 9 perché è una rappresentazione praticamente perfetta del personaggio anche il viso il viso veramente pazzesco e anche la spada fatta veramente veramente bene comunque ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo icico kurosaki il mio voto complessivo chiaramente per la figure è un 9 se non si fosse capito lasciatemi un commentino qui sotto il like al video è sempre creditissimo così come anche la condivisione se volesse acquistarlo lo trovate nel mio sito ara shop nel link qui sotto in descrizione al momento in copie limitatissime in realtà provvederò a fare più ordini perché ripeto questi prodotti design model meritano veramente tanto comunque grazie a tutti per la visione come sempre noi ci vediamo alla prossima ciao da ara da icico e collezionate sempre